buonasera a tutti carissimi amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la pagina giugni eduart e con lo spazio video di oggi sarà dedicato all'artista piero pollaiolo un artista rinascimentale vissuto nel 1400 fiolentino in firenze la cui attività spesso viene confusa con quella del fratello antonio fratello più grande di lui i tuoi però in realtà collaborano insieme e avevano in effetti uno stile molto simile seppure con qualche differenza ecco perché ne parleremo ne parleremo in relazione all'opera di piero pubblicata qualche giorno fa quella raffigurante galeazzo maria sforza di cui ho raccontato la vita proprio nel posto ecco piero pollaiolo è un artista a 360 gradi così come il fratello era pittore scultore orafo incisore ma era erano soprattutto dei grandi innovatori perché erano degli artisti che avevano introdotto per la prima volta nell'arte un interesse veramente approfondito per lo studio anatomico cioè per il corpo umano e quindi anticipando notevolmente quello che poi avrebbe fatto e avrebbe reso celebre in maniera ancora più significativa il grande e geniale leonardo da vinci ecco piero pollaiolo però a differenza del fratello era molto più interessato proprio ad una rappresentazione esatta delle proporzioni dei corpi e per esatta si intendeva anche la realizzazione dettagliata addirittura minuziosa dei muscoli e delle ossa del corpo umano ma la differenza più significativa tra lui e il fratello antonio era che piero era molto interessarsi era sempre interessato al movimento così come il fratello ma era particolarmente interessato a rappresentare i le figure nel momento preciso in cui stavano per compiere una determinata azione continuate a seguire la pagina gioni eduarte io vi auguro una buona serata oltre ad augurarvi un buon e sereno natale ciao a tutti